Sera dobbiamo dare la medaglia ganata a DOC al nostro Piero Gaglie, lo incoroniamo. Un giro di tavolo allora prima di parlare ancora del Philadelphia, Oscar, sabato sera. Sabato sera giochiamo con serenità, con serenità, i ragazzi devono stare concentrati, sereni, motivati e speriamo che ci giri bene, non facciamoci prendere dal panico, non nel momento. Franco? Ricordo solo che il Cesena ha come colori sociali al diante. Esatto, bravo, mi hai rubato le parole di bocca. Ho detto tutto. Giammaria? Per sabato? Ma sabato bisogna vincere, Carlo, non c'è altra soluzione, non c'è alternativa, per cui di riff o di raff bisogna portarla a casa in questa partita. Ecco, vorrei se riusciamo a inquadrare questa fotografia, ho portato una fotografia in cui compare tra gli altri anche con Franco, anche Piero e abbiamo anche questa persona Franco Oberdangussello che era con noi, avete in mano una candela, parlavamo sotto il 4 maggio e era una commemorazione, una serata bellissima a Terretai dove tu per anni hai fatto le tue trasmissioni, Piero. C'era anche l'allora presidente del mio club, il club Torino Asta, di cui io sono mio padre Fiero di essere presidente onorario e siamo un club di tutti i pari notti come il sottoscritto, ci troviamo alla bocciofila Pozzostrada e siamo sempre più che mai attivi perché cerchiamo di portare sempre avanti il discorso del nostro Torino. Ci mancherebbe. Piero ti chiedo in diretta di autografarmi questa fotografia questa sera. Ce l'ho anche io a casa. Guarda, così, teniamo questo... Era anche Giovanni Ostro, l'ho visto nella foto. Sì, sì. No, mi stavo chiedendo se avevo la stessa giacca 15 anni fa. Ma, guarda, lei non era vestito molto diversamente. Siccome l'ingaggio di queste televisioni è molto l'auto. Approfittiamo della presenza del professore. Ho giusto una giacca ogni 15 anni. Invece con la regia adesso chiederei gentilmente, allora come Piero Gai prima accennava, noi ci siamo preparati un momento e lo dobbiamo dedicare come consuetudine ovviamente al Filadelfia. e abbiamo queste immagini, Piero ci siamo trovati appunto in Corso Vinsaglio, abbiamo invaso la strada, siamo rimasti lì, abbiamo bloccato il traffico e come dicevi tu poi è arrivato l'assessore e quant'altro poi ha dato la notizia che con 535 mila euro il Comune di Torino ha praticamente tolto le ipoteche dal Filadelfia. E rimangono sul Comune? Beh l'Olimpico non se ne è parlato ma sull'Olimpico rimangono. Adesso poi andremo a vedere. Adesso però bisognerà poi parlare ovviamente della ricostruzione perché adesso non c'è più l'alibi per nessuno per poter dire eh non lo posso fare, è ipotecato come dire. Ed ecco qui adesso ovviamente salutiamo la Simona Cavallo, la Marina Gismondi e tutti i colori i quali erano presenti ovviamente e devo dire che abbiamo anche preparato, le persone non erano poche come qualcuno ha voluto far credere e qua ci sono le immagini a testimonianza quindi qualcuno ha scritto 50 persone in realtà probabilmente si è un pochettino sbagliato ma comunque anche fossero state solo 50 al cuore vale per i due milioni di tifosi che ci sono di Granata e forse più al mondo. Le nostre fotografie che abbiamo sempre mandato in onda durante queste settimane vabbè riproponiamo e proponiamo ovviamente quella che c'è in studio in questo momento che direi che è quella giusta, l'Olimpico continua ricordiamo essere ipotecato ne parleremo poi più avanti, il Philadelphia adesso finalmente è libero e mentre questa ipoteca non c'è più su questi ruderi, continuano a restare ovviamente i ruderi, aspettiamo le mosse di chi generalmente si è sempre espresso in un modo... Io direi, permettimi una cosa, direi che questa è l'occasione buona da parte di Cairo di ricomporre l'affetto verso i tifosi, perché è l'occasione buona, Cairo con una parola dovrebbe dire mi impegnerò per il Philadelphia, io sono convinto che tutti i tifosi lo applaudirebbero e ritornerebbe questo feeling verso di lui. Anche coi fatti? Anche coi fatti, ovvio. Proprio l'ha già detto tre anni fa, vabbè, le ipoteche c'erano, le ipoteche c'erano, la scusa delle ipoteche, c'erano le ipoteche, c'erano le ipoteche, quindi lì siamo... Ha sempre solo detto che lui contribuisce... Sì, no, intanto il comune ha 6 milioni di euro in casa e li mette nel piatto, dopodiché il Torino potrebbe anche intervenire in parte. Di chi è il terreno del Piradel? Di chi è? E del comune? E del comune? Ma cosa c'entra? Deve essere dello stadio del Toro. Non mi fate andare fuori dalle righe perché se incomincio io con i terreni, con le costruzioni, gli spazi commerciali, devo tirarmi dietro tutta l'altra parte della città e cominciare a dire quanto hanno regalato di qua e quanto hanno otto di qua negli anni, quindi stasera non direi che non è il caso. Ci aspetta un momento molto importante, non è detto, non è detto. Le immagini, perché io voglio ricordare a proposito del Philadelphia, una cosa molto importante ed è la raccolta delle firme, la raccolta delle firme che deve avvenire è perché dobbiamo evitare le speculazioni, quindi gli spazi commerciali. Allora ricordiamo che sabato davanti alla maratona già dalle 18.30 si potrà firmare e anche si potrà firmare domenica pomeriggio al Philadelphia. Le raccolte delle firme per la ricostruzione del Philadelphia senza speculazioni commerciali si potrà fare anche al Granata Store, alla pizzeria Amore Mio, davanti al Philadelphia e al Museo del Grande Torino. Questi sono i punti dove si possono raccogliere le firme. Le firme sono valide ovviamente quelle dei residenti a Torino maggiorenni, ovviamente, ma vengono raccolte, raccogliamo anche le firme da quelli che vengono da fuori e quindi per dare maggiore pressione alla proposta che dovrà poi essere approvata dal Consiglio Comunale. Quindi mi raccomando, sabato davanti alla maratona alle 18.30 c'è già la raccolta delle firme che è già partita ovviamente. Poi ribadisco al Granata Store, alla pizzeria Amore Mio, davanti al Fila e al Museo del Grande Torino. Se tutti quelli che hanno a cuore il Philadelphia e che continuano a chiedere a fare pressione finché venga ricostruito, non dimostrano in questi frangenti l'attaccamento, non riusciamo a ricavare nulla. Quindi dobbiamo raccogliere il numero più alto possibile di firme. Anche il sito Corretoro ovviamente metterà tutte le notizie sul sito. Caro Gianmaria.